Allora, diciamo che era una giornata normale, un pomeriggio tranquillo, io e Pigna dovevamo registrare, avevamo appena finito tra l'altro di registrare, insomma, tutto normale. Poi però Pigna controlla OTS e vede che c'è Boldro e lo sposta in stanza. Boldro ha sempre la mania di tenersi il clownfish acceso. E sì, succedono sempre cose particolari quando c'è lui, però questa volta è successo qualcosa di veramente, veramente, vabbè, guardate il video, buona visione. Oh, non abbiamo letto come funziona! Scusate, ma sta a riprendere? Pigna, non siamo neanche nello stesso! No, no, ci siamo, ci siamo! Oh sì! Vai, poi, tu raccontaci qualcos'altro, raccontaci qualcos'altro! Allora, ieri sono andato da un macellaio, gli ho detto, ma voi vedete anche i piselli delle mucche? Non avete tu, non ho detto, 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 non ho detto. che ci sono i marcellai che vendono i piselli delle mucche la classica domanda è che fa un figlio e la mia mamma la mia mamma ha detto che non potevo avere il pisello della mucca perchè non possono avere i piselli di mucche e i bambini non gli possono dare i piselli in mano perchè dopo sono grossi i costi e non sono per picchiare i suoi amici e quindi mi ha detto non ti do nessun pisello di mucca papà non ha toccato e ho cercato tante mucce per io dove davano dei piselli però non l'ho trovata e quindi niente sono tornata dalla mia mamma e mi ha detto dai si è molto di compleanno te lo regalo e io ho detto va bene grazie anche io Anche io